Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 12 dove si segnalano code a tratti per lavori tra Massa e Versilia in direzione Rosignano. Spostandoci sulla FIPILI sono possibili disagi per un incidente in entrata a Livorno Porto in direzione Firenze. In Viale Gramsci a Firenze fino al 23 dicembre in orario 9.19 è chiuso il controviale tra Via Beccaria e il numero civico 4. Si informa che per le avverse condizioni meteo la circolazione sulla linea Siena-Grosseto oggi è sospesa. La circolazione ferroviaria risulta perturbata nel nodo di Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!